Musica 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 metta Franco Perini ma non certo col tempo strepitoso attribuitogli il tempo di Franco Perini è di 4.52 e 8 seconda e tiro degli alperi con 4.56 e 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 quando rinofi, ed è il primo fra le storiche a scendere lo segue è vero 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 è vero